Androlife è una campagna che abbiamo organizzato ormai da tre anni che vuole avere lo scopo di allargare non solo quindi ai giovani delle scuole ma a tutti i giovani la possibilità di fare prevenzione. È una campagna diretta ai giovani tra i 18 e i 35 anni perché è la fascia più colpita e che è più importante da un punto di vista andrologico per i giovani e viene data la possibilità sia di fare informazione sia di fare prevenzione in termini clinici quindi vengono allestiti ambulatori mobili viene data la possibilità presso la fondazione verranno aperti dei punti di riferimento per i giovani per avere sia informazione che fare prevenzione da un punto di vista clinico e inoltre Androlife vuol dire anche sensibilizzazione più ad ampio spettro eventi culturali, eventi sportivi che servono per far conoscere l'andrologia per far conoscere anche questi aspetti alla società e in particolar modo alla società maschile.